Siamo qui con i Nomadi, cosa presenterete questa sera qui al Musicultura Festival? Presentiamo Sergio che è un vostro concittadino, debutterò su questo palco, grazie a Beppe. No, presenteremo penso 5-6 canzoni, dalle prime alle ultime, nel senso che toccheremo i primi anni e il 2006, quindi penso siano 6 canzoni, rispetto alle 280 che abbiamo incisi sono poche, però penso che ci si possa raccontare anche con 6 canzoni e si possa capire cosa hanno fatto e cosa sono i Nomadi. Cosa vi sentite di augurare ai giovani cantatori emergenti che partecipano questa sera al Musicultura Festival? Come minimo di avere tutti una carriera strepitosa come quella dei Nomadi, perché mi sembra il massimo poter stare più di 44 anni sopra il palco a suonare, a trasmettere emozioni, penso che è la cosa più bella che possa capitare ad ognuno di noi. Avete dei progetti per il futuro? Un tour? Il tour? Guarda, noi siamo in tour perenne, perché se tu guardi le date qua solo di luglio, poi ti faccio vedere, aspetta che volto pagina, attenzione. 25 ad agosto, 23 a luglio, ci siamo. Qui nelle Marche quando verrete? L'appuntamento è per il 12 luglio, siamo allo stadio comunale a Porto Potenza, sarà un concerto per beneficenza per la provincia di Macerata, per la Croce Rossa della provincia, quindi speriamo che veniate numerosi per sostituire. Poi è casa sua, quindi tutti e mangiate a casa sua. Quindi anche noi della redazione di Susha? Sicuramente, per la prima volta. Va bene, grazie. Grazie mille.